6 luglio al manacco oroscopo ciao da mauro oggi è santa maria goretti bentrovate e trovati i compleanni nati oggi abbiamo cristina d'avena una grande interprete di sigle di cartoni animati nata il 6 luglio del 1964 e poi un grande cantautore un musicista max gazzè 6 luglio 1967 eccoci alla frase di oggi e poi l'oroscopo ascolta la donna quando ti guarda e non solo quando ti parla ariete è il momento di mettere a punto ciò che da tempo bulle in pentola nella vostra pentola naturalmente se qualcosa dovesse essere rivisto potrete farlo ora perché siete dotati di idee molto chiare e vi sentite molto tranquilli dentro toro se un vostro progetto non decolla come vorreste o nei tempi che voi desiderate non è affatto il caso di diventare così cupi e diffidenti nei confronti di altre persone che non l'hanno a che vedere con questa vostra difficoltà momentanea è importante ritrovare la fiducia in se stessi gemelli non vale la pena stare a prendersela così tanto questo è quanto direte ad una persona amica ma se vi risponderà che lo dite solo perché a voi va tutto bene tutti i torti non li avrà infatti la vostra fiduciosa filosofia è legata a ciò che di positivo vivete siate più obiettivi cancro non vi piacerà molto l'idea che quell'incarico o quel certo tipo di ricerca venga affidato proprio a voi solitamente vi avrebbe mandato in brodo di giugiole e ve ne sareste sentiti molto gratificati ma oggi preferireste che gli altri si dimenticassero della vostra presenza leone bilanciate bene i vostri impegni e non lasciatevi sfuggire occasioni che potrebbero rivelarsi molto interessanti anche se il vostro modo di fare è molto brillante e vi sentite in grado di fare di tutto ricordatevi che ci sono limiti e che vanno rispettati avete energie in eccesso da scaricare vergine la vostra attività oggi prenderà un corso al quanto discontinuo al punto che vi sarà difficile mettervi in carreggiata ed organizzare come vi piacerebbe ogni cosa non arrabbiatevi comunque perché non accadranno fatti di particolare gravità ci sarà solo un po di confusione bilancia una giornata questa da trascorrere con ritmi rallentati anche per aiutarvi a trovare la calma a prepararvi per il nuovo inizio di settimana potreste cucinare qualcosa di buono invitando gli amici più intimi a fare qualche assaggio se gli sguardi di quella persona parlano chiaro e anche gli amici ve lo confermano fatevi avanti non dovrebbero esserci delusioni scorpione potreste accorgervi che una promessa fatta tempo fa non avete più voglia di mantenerla ma a parola data non ci si può tirare indietro serata da trascorrere in relax avete bisogno di risolvere il vostro nervosismo rimanendo a casa senza sentirvi in dovere di apparire sorridenti sagittario non date per scontato che tutti vogliano trascorrere una giornata come voi intendete lo sport può piacere ma la vostra esuberanza fisica mette a dura prova la resistenza degli altri la serata va trascorsa in mezzo agli amici più probabilmente in mezzo a persone che vi ammirano risulterete particolarmente affascinanti e sensuali capricorno un fine settimana in un riposante il luogo magari in campagna potrebbe essere per voi il massimo per trascorrere questa giornata di festa il sapore di cose semplici vi affascina e vi ricarica per la prossima settimana potrete condividere queste ore in modo molto romantico con chi amate acquario se farete una tranquilla passeggiata parlando con voi stessi potreste ritrovare un po di carica positiva il guaio è che probabilmente vi sentite stanchi anche se non ne avete motivo la stanchezza non è soltanto un discorso fisico nel vostro caso ma mentale se volete raggiungere quella persona con la quale avete interrotto bruscamente una conversazione dovrete fare presto pesci vi sentite sulla cresta dell'onda e sarete voi gli organizzatori di questa giornata festiva da trascorrere con gli amici potrete cucinare per loro dopo aver fatto una lunga passeggiata è solo un piatto di spaghetti ma che voi mangerete con tanta allegria allegrie grazie 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 a tutti.